Il Comitato 1 a Valmarecchia ha organizzato sabato 30 luglio a Salleo una maxifesta per celebrare il passaggio in Emilia Romagna dei Sette Comuni, è venuto due anni fa. La serata è stata aperta da un convegno legato all'Unità d'Italia e ai progetti per lo sviluppo turistico e urbanistico dell'intera vallata. Noi crediamo di aver ricevuto davvero un grande dono inaspettato, che è quello dell'ingresso ai Sette Comuni, anche se storicamente sono sempre stati con noi, perché credo che sia l'unico modo che noi avremo per avere un futuro, un futuro radioso e il futuro che ci compete come provincia di Rimini. La sfida che abbiamo da raggiungere è quella davvero di vederci proiettati nel futuro come protagonisti e soprattutto vedere questo territorio leader, leader del turismo, della cultura, della storia, quello che si merita di essere e quindi anche dei giovani che si pensano, si programmano e pensano al loro futuro all'interno di questo territorio. Questo è il nostro sogno e quello per cui stiamo lavorando. Credo che se insieme a tutti gli amministratori riusciremo ad avere lo stesso sogno, ci toglieremo anche delle grandi soddisfazioni. Il Marecchia nasce in una terra che parte dagli Appennini e arriva a Rimini. A Riminum, la città romana, è la città del Marecchia e il Marecchia è questo bellissimo torrente, fiume, che lambisce una terra che ha trovato un'unità dopo tanti anni e dopo qualche separazione forzata. Oggi siamo qui a San Leo, la costa, l'entroterra, ci dà la possibilità di ripensare dal punto di vista delle opportunità sociali, del rilancio economico, del rilancio turistico. Quindi è un dovere, è un onore, è anche un divertimento essere qua come Rimini, in questa terra ritrovata. Oggi è San Leo, festeggiando il primo anniversario. Direi che siamo stati fortunati e bravi, molto ostinati, molto decisi. Abbiamo avuto anche quella dose di vivere un momento dove la politica non aveva ancora questi toni di contraposizione, siamo riusciti a parlare con la buona politica e questo è stato importante. Poi fra di noi siamo stati bravi a mantenere la concentrazione, la trasversalità politica e principalmente l'amicizia tra noi. Presenti alla festa due rappresentanti del comune di Montecopiolo che attende ancora il passaggio di regione insieme a Sasso Feltrio. Siamo ancora fermi al palo, attendiamo ancora che le regioni si esprimano. Abbiamo strappato una promessa dalle Marche per poi passare in regione Emilia-Romagna. Speriamo così di poter arrivare in breve tempo alla discussione alla Camera e al Senato. In chiusura le note della banda dei minatori di Perticara e i fuochi d'artificio. Grazie a tutti.